Oggi come ogni venerdì vado a provare i vostri videogiochi Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Con questo sciuffo che esce fuori dal cappuccio Oggi andiamo subito a provare proprio due vostri videogiochi Infatti ogni venerdì esce proprio un video riguardo la serie i vostri videogiochi Ma dove li prendo i vostri videogiochi? Soprattutto a Samuele dove posso mandarteli? In descrizione trovate il sito svilupparegiochi.it Dove c'è una sezione dedicata dove voi potete mandarmi in qualsiasi momento il vostro videogioco Che poi verrà inserito all'interno di un Excel e io in ordine cronologico andrò a provare tutti i vostri videogiochi Io direi di non perderci troppo i chiacchiere perché oggi ci sono tante cose da dire in questi due videogiochi Eccoci qui con il primo gioco che ci viene mandato da Andrea Barberis Stiamo parlando di Laser Space Infatti una volta che noi riavviamo la partita ecco qual è la schermata principale Quindi abbiamo questa piccola loading screen che ci sta veramente molto bene Iniziamo anche a valutare la pagina ITC che non è neanche in temale Molto standard, non ci sono foto, va benissimo Tanto l'utente può provare subito il videogioco Io consiglio comunque di concentrarsi un po' nell'estetica della pagina del nostro prodotto Un po' come ho fatto io ad esempio per il gioco Ciccio vs Zombies Dove ho messo un piccolo banner Qui abbiamo la parte principale del gioco dove possiamo giocare E poi delle descrizioni suddivise ovviamente con un titolo, con delle gif, delle immagini Quindi ho preferito comunque perdere un bel po' più di tempo Però per creare una pagina principale molto molto migliore Rispetto a quella magari di mettere dei colori così a caso Vediamo subito quindi Andrea Barberis che videogioco ha fatto Vado subito a leggere qui dal file Excel che mi viene generato nel momento in cui voi inviate il vostro videogioco tramite il sito ufficiale svilupparegiochi.it Questo videogioco è stato realizzato in Construct 2 Tutto realizzato completamente da lui Ma come tempo di sviluppo non ho una data ben precisa perché c'è scritto 20 Quindi non so se sono 20 ore oppure 20 giorni Quindi va bene così Ecco quindi la prima schermata principale Non abbiamo nessun titolo Che questa cosa va bene comunque secondo me tanto si è visto anche in precedenza Accetto lo stile Abbiamo un tasto impostazioni che una volta aperto come avete potuto vedere si sono viste per un attimo quelle freccette Proviamo a rifarlo Guardate un po' Io clicco il tasto impostazioni E penso che si apre lo shop Non proprio il negozio Perché non capisco anche questo numero 70 cosa vuol dire E poi non trovo nulla nelle... Aspettate un attimo Ho toccato a caso E vedo delle immagini Quindi vedo... Ah sto toccando a destra e a sinistra e posso scegliere forse lo sfondo da modificare Io faccio ok E infatti adesso ho 20 monete Quindi praticamente ho comprato lo sfondo Questa cosa è un po' fatta male perché non ho visto né il costo del singolo sfondo E soprattutto le frecce erano andate via Quindi sicuramente quello che consiglio è di lavorarci un po' Il tasto on e off per attivare e disattivare la musica funziona perfettamente Io comunque la musica secondo me non rende neanche niente male È un po' una musica epica Forse per un gioco arcade così è un po' troppo però va bene lo stesso Quindi vediamo subito questo videogioco per vedere di che cosa tratta Una volta che noi clicchiamo quindi due volte col tasto sinistro del mouse o col dito Quindi semplicemente sulla parte centrale ma anche agli angoli Parte il videogioco e quello che dobbiamo fare è semplicemente abbiamo questa pallina Che dobbiamo andarla dall'altra parte dello schermo Semplicemente rispettando il colore che abbiamo noi con il colore delle tabelle tra virgolette Quindi ad esempio adesso abbiamo il colore blu Possiamo prendere le stelle che ovviamente credo che ci servono per guadagnare soldi e comprare sfondi Che però c'è quel piccolo problema nel negozio E tra un livello e l'altro possiamo anche capitare di andare in alcuni livelli bonus Dove noi come premio tra virgolette possiamo ottenere più stelle Ecco qui siamo qui nel tra virgolette livello bonus Dove qui ci dà la possibilità di ottenere stelle aggiuntive Ne abbiamo ottenute 50 che sono veramente tante Forse ottenute oppure in totale Questa cosa non c'è effettivamente In alto a sinistra abbiamo il nostro scorro comunque a che livello siamo arrivati E quello che consiglio sempre mettete degli sprite font personalizzati Perché qui si vede semplicemente un testo che è un arial buttato lì a caso Il gioco diventa sempre più difficile Nel momento in cui io tocco un'altra bella Quindi diciamo un rettangolo che non è del mio stesso colore Ovviamente perdo Qui ho fatto 7 punti e il best score è 4 Quindi io credo che attualmente si debba aggiornare questo best score Infatti se adesso provo a fare tap tu retry Voglio andare a morire Vediamo se tutto funziona perfettamente Il double tap alcune volte non funziona Vado a morire E il best score rimane 7 Quindi non si aggiorna subito Quando arriva il game over Ma si aggiorna Anche qui consiglio di mettere ad esempio dei bottoni O di mettere comunque uno sprite font dedicato per ogni testo E di non fare tutto molto in fretta E comunque quindi suggerisco ad Andrea Sempre di mantenere un certo stile come nel menu principale E quindi ad esempio di utilizzare proprio il font Che tu hai utilizzato qui nel menu principale Quindi consiglio la stessa cosa In modo tale da avere omogenità con i testi all'interno del videogioco Per il resto il gioco credo che non sia neanche effettivamente male Mi piace questa idea Questo concetto base di gioco arcade L'unica cosa che non mi piace è che tra un livello e l'altro Come avete potuto vedere C'è questo fatto che se ci sono dei rettangoli in mezzo Scompaiono in una volta Vanno via Questa cosa non mi attira Magari ci stava ad esempio un'animazione Che ti indica che sei avanzato di livello O un qualcosa Per il resto graficamente è molto basico Quindi potrebbe anche starci Magari utilizzerei delle palette colori migliori E anche qui a livello audio Adesso quando sono andato nel livello bonus C'è una sovrapposizione appunto di file audio Quindi c'è la canzone epica sotto Con questa canzone Diciamo divertente Che sta a indicare appunto che siamo nel livello bonus Che ci viene dato nel momento in cui prendiamo la stella Ma voglio fare una prova Provo a prendere la stella Per vedere se poi muoio Oppure effettivamente prendo un punto Quindi faccio così Ok non muoio La stella mi va nel livello bonus Quindi noi durante il gioco Non prendiamo stelle Ma le stelle le possiamo prendere solo nel livello bonus Questa cosa potrebbe anche starci Diventa sempre più difficile E l'idea secondo me non è neanche niente male Solo che diventando sempre più difficile Cosa succede? Che dato che vanno molto veloci Può succedere che nel momento in cui tu vedi Una casella blu qui E tu appena la vedi clicchi Quando saranno molto veloci È impossibile vincere Perché praticamente vanno talmente veloci Rispetto a quando spawnano Quindi a quando li vedi Che praticamente Ad esempio io adesso vedo blu Guardate un po' Quindi aspettiamo Aspettiamo Clicco Ho preso la stella Ma in quel caso Potevo vincere Cosa poteva succedere? Che se il livello era troppo veloce Anche se vedevo blu Toccavo subito la casella Che stava dietro Il blu Secondo me il gioco non è neanche niente male Necessita un po' di miglioramenti Quello che ti consiglia È sistema tutta la parte Di sprite font Di testo e così via Aggiungi altre modalità interessanti Sistema lo shop Che va sistemato E poi vediamo un po' Come si potrebbe ancora di più modificare Magari dai un bel boost grafico Quindi cerca di prendere ad esempio Spunto anche dal gioco Color Switch Che ha utilizzato Quello stile di palette colori Quindi niente rettangoli Con questo glow E vedi un po' Anche i piccoli sfondi Che potresti inserire Il secondo videogioco di oggi Invece si chiama Salve il palloncino Che a differenza dell'altro gioco Dove Andrea Ha realizzato La pagina principale del prodotto Quindi la scheda Il sito internet Del videogioco Ha modificato un po' Qualcosa comunque i colori In questo caso Il ragazzo Ovvero in particolare Alesco Non ha praticamente Fatto nulla Quindi non ha messo immagine Niente Questa cosa secondo me Va aggiornata Io credo che La scheda prodotto L'immagine principale Di un videogioco Comunque il sito Va curato Perché o lo vedo un publisher O comunque anche un giocatore stesso Facciamo finta Che non può provare il gioco Comunque può vedere delle foto Comunque può leggere Quello che può fare Quindi un minimo Di estetica Mi raccomando ragazzi È veramente molto importante Se dedicate una settimana Due settimane Per creare il vostro videogioco Spendere due tre ore in più Per la scheda prodotto Non è ovviamente Tempo perso Comunque vuol dire Che state dando valore Aggiunto comunque Indirettamente al gioco Allora Alesco ha realizzato Questo videogioco Utilizzando Construct 2 Non ho in particolare Tempo di sviluppo Quindi non mi ha scritto nulla E mi ha detto Che questo è il suo primo gioco E le grafiche Sono state fatte da me Con Affinity Designer Quindi Alesco ha realizzato Queste grafiche Con Affinity Designer E vediamo subito appunto Che tipo di videogioco Ha fatto Il gioco originale Fatto in qualche giorno Ok perfettamente Ho soltanto questo dato Non mi ha scritto in particolare Il tempo di sviluppo E clicchiamo il bottone Run Game Una volta che clicchiamo Il bottone Run Game Si vede la splash screen Di Construct Quindi prevedo Che non ha comprato la licenza E grandissimo problema Non ho capito questa cosa E il gioco inizia Con la schermata di Game Over Io cosa ho fatto Quando l'ho avviato Per la prima volta Perché già Ci ho passato qualche minuto Giocandoci Cosa succede E ho detto Beh non ci sarà La schermata del menu principale E invece no Perché se clicco sulla casa Il menu principale C'è e come Quindi questa cosa Non l'ho capita Che quando apro il gioco Vado sul Game Over Ti ricordo che Se stai utilizzando Construct 2 Quello che devi fare È andare su View A sinistra E come First Layout Impostare il menu principale Secondo me Lui avrà impostato Game Over E quindi quando vai a esportare Il videogioco Cosa succede Parte dal Game Over Mi raccomando Seguite i corsi Che trovate in descrizione Di Construct Dove vi insegno Passo passo Come creare videogiochi Con questi tool Evitando di fare Errori di questo genere Nel momento in cui noi Clicchiamo il tasto play Il gioco inizia subito Non sappiamo quello Che dobbiamo fare Infatti sono molto Un po' di volte All'inizio Quando avviato questo gioco Ma quello che dobbiamo fare È cliccare appunto Su queste Non so adesso Come si chiamano Vabbè puntatori Non mi ricordo effettivamente Come si chiamano Per evitare appunto Che questi Esplode Come secondo me Si potrebbe migliorare Questo videogioco La prima cosa che consiglierei È che il momento di spawn Avviene non velocemente Cioè nel momento in cui Io clicco play Passa comunque qualche secondo Prima di far spawnare Questi puntatori O chiamiamoli nemici All'interno del gioco Questo perché comunque Cosa può succedere Che per i primi utenti Non si capisce Quello che devono fare Infatti quello che consiglierei Magari appena aperto il gioco Per le prime volte Cosa deve succedere È che il primo puntatore Abba molto molto lentamente Magari c'è un dito Su di esso Che ti indica Che gli devi toccare Poi ne appare un altro E appare il dito Che devi toccare Anche su quell'altro In modo tale che l'utente Capisce subito Cosa deve fare Anche per l'altro gioco Quello che consiglio D'alesco Quindi anche il discorso Ho fatto per Andrea Che faccio sempre Per tantissime persone Mi raccomando ragazzi Dedicate un po' di tempo Anche a inserire I sprite font Che nel video Che ho fatto qualche giorno fa Vi ho fatto vedere Anche come crearne Uno proprio E come inserirlo Su construct 2 E construct 3 Inserite uno sprite font Perché qui sulla sinistra Abbiamo semplicemente Un font Arial Se non erro Dove ci indica Il nostro punteggio Quindi quello che consiglierei È migliorare La qualità del videogioco Anche da questo Piccolo punto di vista Perché secondo me È veramente Molto molto importante Una cosa che migliorerei Anche qui Anche seguendo gli ultimi corsi Lo abbiamo fatto Appunto all'interno Delle varie lezioni Se dovessimo inserire Il behavior Lighty Twin Quello che possiamo fare Una serie di animazioni Ad esempio Inserire un sign Nel palloncino Che si muove poco poco Possiamo fare che ogni volta Che noi clicchiamo sui nemici Loro si gonfiano E vanno via Quindi non vanno a scomparire A distruggersi In maniera così diretta Anche loro possono muoversi Possono avere velocità randomica Però se non erro Il bello di questo videogioco È che appunto Almeno non l'ho testato A lungo termine In teoria I nemici Diventano sempre più veloci Questo non lo so effettivamente Ma andrebbe testato Quindi andrebbe calcolato Il tutto Una cosa che secondo me Succede Che non ne sono sicuro Praticamente i puntatori Non spawnano al di fuori Della mappa Che è quello che consiglierei Ma spawnano Praticamente ai bordi Quindi in una volta Succede che tu vedi Il puntatore Questa cosa La sconsiglio di fare Quindi consiglio sempre Di farli spawnare ai bordi E a poco a poco Farli avvicinare Al centro dello schermo Ma non è finita qui Perché anche qui Il menu principale Io consiglio di migliorarlo Esteticamente Quindi invece di mettere Questi Invece di mettere Queste scritte Ormai si ragiona più Con icone Quello che consiglio È che se vuoi aggiungere Delle scritte Metti le fighe In modo tale Che il gioco Comunque è ancora più bello Ma non è finita qui Perché la cosa Veramente fantastica Che c'è di questo videogioco È che c'è un tasto opzioni Dove noi possiamo Disattivare i suoni O la musica Ma la cosa ancora più figa È che ci sono le modalità Che io avrei messo Ma non è finita qui C'è una modalità Snoop Dog Che nel momento In cui io la clicco Guardate un po' Adesso si sente Perché il volume Non si sentiva Parte la canzone Snoop Dog Qui il rischio Il copyright Quindi la basso subito Faccio play Ed ecco qui Che inizia il videogioco Ovviamente adesso Ricomincio Quello che devo fare È distruggere appunto Toccare le foglie di marijuana Questa cosa è una figata Nel momento in cui Io perdo però Si sente sempre Il rumore Che scoppia La palla Questa cosa Secondo me Andava sostituito Con ad esempio Qualche frase di Snoop Dog Quindi sostituire il suono Della marijuana Quando ti tocca Con qualcosa Sempre legato a Snoop Dog Invece del scoppio Del palloncino Questa cosa è veramente figa Perché potrebbe starci Potrebbe essere anche Un piccolo easter egg Nel momento in cui Io metto difficile Clicco play Questi qui sono I file audio Che si sentono Quindi un semplice Scoppio del palloncino E anche poi Una musichetta game over Che ripeto Secondo me Ci stanno veramente bene Quindi anche qui La scelta di non mettere Una canzone di sottofondo Potrebbe starci Nel momento in cui Scoppia il palloncino Nel menu impostazioni Però c'è un bottone musica on e off Che ovviamente serve a disattivare La musica di Snoop Dog Quindi nel momento in cui Faccio play La musica non si sente più Invece in quel caso Partirebbe la musica Quindi la cosa che consiglierei Appunto Modifichiamo tutte queste piccole cose Perché secondo me Potrebbe anche Rendere il videogioco migliore Ovviamente in questo caso In questo gioco arcade Mettere altre modalità Oppure la possibilità Di comprare spawn Di personalizzare il palloncino Secondo me potrebbe essere figo Oppure possiamo fare che Per raggiungere un po' di difficoltà Tra i puntatori Che spawnano Quindi li dobbiamo toccare tutti Possono spawnare cose Che ad esempio Power up Rendono il palloncino più piccolo O più grande O ad esempio Noi possiamo spostarlo O raccogliere delle monete Che ci servono per lo store E quindi secondo me L'unico limite Forse è la nostra immaginazione Questi erano i due videogiochi Di questa settimana Me ne state mandando Veramente tanti E spero poco a poco Di portarli tutti Non vi preoccupate Attendete Arriveranno anche I vostri videogiochi Che mi sono stati mandati Un po' di giorni fa Non vi preoccupate Ho visto già che molte persone Si stanno allarmando Eh ma il mio videogioco Che fine ha fatto Non vi preoccupate ragazzi Sto dando priorità A tutte quelle persone Che mi hanno mandato Il videogioco Prima di voi Quindi a poco a poco Porto tutti questi videogiochi Io spero che questo videogioco Vi sia piaciuto E soprattutto se volete dare feedback Ai creatori di questi videogiochi Vi lascio il link In descrizione Proprio delle pagine Dove voi in qualsiasi momento Potete appunto commentare Il videogioco Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto E se così fosse stato Vi invito a lasciare Un bel pollice in su Commentate qui sotto Con quello che volete Se volete altri video Su questa serie O se volete più videogiochi Quindi video più lunghi Fatemelo sapere Con un commento qui sotto Invece Se volete rimanere Sempre aggiornati Col mondo dello sviluppo Di videogiochi Vi basta cliccare Il bottone iscriviti Se volete imparare A creare videogiochi Già sapete che In descrizione trovate link E niente Io vi auguro Un buon sviluppo di videogiochi E ci vediamo domani Ciao